Ecco sei ottimi motivi per fare sosta a Daffico. È comodo, si esce dall'autostrada e dopo pochi minuti si arriva all'ampio parcheggio. È accogliente, ma chi altro vi accoglie con gli adorabili animali della Pet Farm? È per tutti i gusti. Daffico puoi scegliere fra salumi, formaggi, pasta, carne, pesce, dolci e si mangia, si mangia, si mangia, di tutto o di più. È divertente, tante attrazioni per grandi e piccini, scivoli, labirinti, spazi ricreativi, eventi mensili, gioco e relax. È istruttivo, con le giastre multimediali potrai imparare e mettere alla prova le tue conoscenze su tanti argomenti e con i tour guidati andrai alla scoperta dei prodotti tipici. Inoltre a Fico puoi acquistare i prodotti delle eccellenze della tradizione regionale italiana, trovi qualità e garanzia. Inutile dire che abbiamo fatto shopping sfrenato. Salva il Reel e seguici per altri tips.